Oggi a Rovetta i Babbi Natale sono arrivati dal cielo con i parapendi, un'iniziativa questa che state portando avanti da qualche anno. 7-8 anni la stiamo portando avanti, anni indietro la facevamo anche a Lizzola, al passo della Presolana, però quest'anno non eravamo preparati, non eravamo in tanti e l'abbiamo organizzata qua con Don Guido, gente del Monte Farno, di Ganda e tanta gente locale. Quindi diversi club si sono uniti? Diversi club si sono uniti, anche se durante l'anno c'è un po' di conflitto, in queste occasioni riusciamo a unificare tutto. Natale riesce a fare anche queste cose, in quanti eravate? Siamo stati un 25-30 persone, il volo non dura tantissimo d'inverno perché non ci sono le condizioni, c'è aria fredda, come scende il sole l'aria fredda dietro, vince quella calda e si scende, non si riesce a star su. E poi il nostro obiettivo era da buttare giù le caramelle ai bambini, da far contenti loro. Poi ci divertiamo sempre anche noi comunque, è sempre un divertimento anche per noi. Un'occasione per volare? Per volare, per stare assieme, per fare quattro risate e anche con amici che magari ci si vede poco e in queste occasioni ci ritroviamo. Ad aprire le danze, diciamo così, oggi è stato Don Guido Rottigni, paroco di San Lorenzo, ha voluto provare ancora una volta le prezze del volo. Certamente sì, siccome avevo un paracadutino da discesa, mi ha lasciato partire per primo perché altrimenti avevo dovuto fare i sorpassi. Ottima iniziativa questa organizzata dall'Alpi Fly tutti gli anni, quando le condizioni lo permettono, perché negli altri anni c'era un po' di vento forte e faceva troppo freddo. Più che altro per dare anche un po' di gioia ai nostri bimbi in occasione della fine dell'anno, Babbo Natale e quindi una bella occasione per ritrovarci anche noi. C'è qui un po' di tutta la Bergamasca e anche fuori. Eravamo, sì penso, un 23-25 piloti. Mi sa che eravamo tutti. Hanno lanciato dal cielo i paracadutini con le caramelle, preparate proprio dal club Alpi Fly. Adesso a tutti quanti viene offerto un po' di vimbrulè. Ringrazio davvero per l'ospitalità i nostri amici qui di Rovetta e avanti. Buon anno a tutti. Tra l'altro è una splendida giornata per volare. Spettacolo, sì. È un volo proprio molto tranquillo, di planata viene chiamato. La giornata è con l'aria molto calma e quindi ci permette anche di distrarci un attimino, buttare le caramelline dall'alto e goderci un pochino il volo. Ma quanti anni vola Don Guido? Questo è il decimo anno. Avevo fatto il brevetto nel 2007 e quindi col 2017 sono 10 anni e mi diletta, mi fa sempre piacere stare su in mezzo al cielo e specialmente anche per l'amicizia che c'è con tutti gli altri piloti. È davvero un bello sport, un po' unico ma molto bello, davvero.